Colico Ore 7 del mattino Stiamo aspettando il treno da Milano Che ci porterà a Tirano La giornata si preannuncia bella E speriamo di fare una bella passeggiata Non vi diciamo dove andiamo Perché ve lo lasciamo scoprire dopo Ed ecco il nostro treno che arriva Naturalmente secondo tradizione italiana In ritardo A Sondro abbiamo la sorpresa Che il treno non va avanti più Si ferma e si carica il suo pulmo per Tirano Perfetto programma italiano Ed eccoci sul pulmo E nel buio del sottopassaggio troviamo Un altro salato Che lì nel latino Ciao Ciao Dove sono i tartuffi? Ci sono Ci sono Ed ecco il chicco che vi ho presentato Per te facciamo il treno? Per te Tre tipologie di carrozze Quelle normali Quelle sono le mie caratteristiche E secondo me è meglio stare davanti assoluto Perché c'è un treno nuovo E puoi vedere la prospettiva e le macchinistra Con la vetraggia no? Si si ottimo quello Un attimo Adesso non vi ho ancora presentato Chi ci accompagnerà oggi Vi dico che siamo in territorio svizzo Siamo sul trenino Perciò siamo salvi Non dovremmo avere più problemi Ci accompagna Chico? Chi è? Chi ti assetti? Chico Sono uno come te No Responsabile della ferrovia eretica per il mercato italiano Niente di problemi Ora sono alle spalle Noi alle 9.40 di qua partiamo Lo garantisco io Vado a prenderti la data Ed ecco qui Guarda dove ho messo Ho dovuto fare una cosa Non so che ho trovato ieri Ecco Seguitemi Questa è la nostra carrozza di serie A La più rinomata La più prestigiosa Si chiama carrozza panoramica Perché le vetrate Sono molto più alte rispetto a quelle normali E permettono Stando comodamente seduti Di ammirare tutte le varie cime Anche compreso naturalmente Il pizzo Bernina In un modo spettacolare Perché questa dà veramente Una grandissima possibilità Di ammirare Di ammirare il panorama Nel miglior modo possibile Quindi Se vogliamo fare un po' Una classifica Questa che vedete in questo momento È la number one La numero uno Anche in Italia Che rocchini Però In cima Dovano fare un po' di film Un po' di foto Così andiamo su Nella regra Un po' di position Questo invece È l'ultimo arrivato È il bambino piccolo Della ferrovia retica Non è una carrozza Ma è una composizione Potremmo paragonarlo A un tram Perché è composto Da tre pezzi Sono tre pezzi Unici Praticamente Che viaggiano sempre insieme Non si possono staccare Si chiama Allegra È un nome Bellissimo Perché In engadinese Allegra Vuol dire Benvenuto Vuol dire È un saluto Come noi diciamo Il salve L'Allegra Dà ancora più tono È stato Inaugurato Questa tipologia di treni Sono stati inseriti Nella tratta del Bernina In occasione Dei cento anni Nel 2010 Quindi Sono freschissimi Portano cento persone Quindi anziché un locomotore Abbiamo guadagnato Cento posti in più E sono di un Di un confort Veramente notevole Con tutta la tecnologia Eccetera E noi ci accomoderemo qui Dove te compari? Dentro L'ho beccato L'ho beccato Questa Si può dire Una unicità Perché Non esiste Altro treno Se non A pagamento E su richiesta Con posti limitatissimi Non esiste Altro treno Che permette Al normale Viaggiatore Naturalmente In prima classe Di poter Ammirare Lo stesso Punto di vista Lo stesso Chiamiamolo pure Panorama Che ha il macchinista E questo per gli amanti Della ferrovia È una cosa Richiestissima Perché Veramente È una prospettiva Diametralmente opposta A quella A cui siamo abituati E vedere Questa Questa nuova Prospettiva Dà All'esperienza Ancora un tocco Un tocco Maggiore Perché Per esempio Nessuno ha mai visto Come entra un treno In galleria Quanta poca visibilità Ci possa essere Ed è una cosa Unica nel suo genere Questo Semplicemente Acquistando un biglietto Di prima classe E naturalmente In questo caso Affrettandosi Arrivando per primi Oggi Non c'è problema Perché siamo In settimana E le festività Iniziano Da domani O da Dopodomani Ma poi Veramente Qui ci sarà Un po' di Vai Chico Ho portato Una cosa da bere Se ci vienessete Durante il viaggio Prova a assaggiarla Buongiorno Buongiorno È mia È bevante L'ace Non mi piace Mica tanto Ma provano a usare Osta che ace A faccia dell'ace Una puntata La bontezza Alla salute Viva l'ace Viva l'ace Viva l'ace Osta che buonga Questo ti apri Il nostro viaggio comincia Il nostro viaggio comincia E comincia in un modo Unico Perché Nessuno ha mai visto Una prospettiva del genere Se non salire su questo treno Perché altrimenti Altrimenti sarebbe impossibile E questo è un regalo Siamo sulla piazza della Basilica di Tirano Perchè Il nostro viaggio Noi siamo qui, Chico? Qui è il Campo Cologno e questo è il confine geografico con la Svizzera. Ecco il famoso viadotto. Viadotto di Brusio, dice Chico. La stazione di Brusio, dice Chico. Ed ecco il trenino che scende e lui andiamo avanti. La stazione di Brusio, dice Chico. 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 A questo punto il trenino, località Le Prese, viaggia sulla strada. Le auto, aggiungo io, caro Orlando, che le auto lo rispettano. Quindi prima il treno e poi le auto. Anche se non è specificatamente scena. E qui il trenino cambia sembianza, diciamo, è una battuta. E' come viaggiare in tram. E' un tram. E troviamo degli amici qui, no? Pallano una lingua strana ma io sono d'accordo con loro. Questo qui per esempio è un frequentatore fisso del Camparino. Ecco, in febbraio arrivo, in febbraio arrivo. Bravo, bravo! E' una bella stessa. E' una bella stessa. E' una fiesta. E' una fiesta. Lasciamo po' schiavo e cominciamo ad entrarsi nelle montagne. Allora, lui è Marcello, macchinista, che lavora per la via eretica da una quindicina d'anni e abbiamo la fortuna in questo momento di poter vedere la postazione del macchinista con i nuovi treni. Questi sono i treni famosi che vi ho spiegato a Tirano di ultima generazione, vedete che c'è una grande tecnologia, una postazione di guida sicuramente ottimale e questa è una posizione di ripresa che possiamo considerare assolutamente eccezionale. Eccezionale il treno, eccezionale la giornata, eccezionale la posizione, diciamo che oggi questa eccezionalità sicuramente sarà dominante per tutta la giornata. Qui siamo in Svizzera, no? Assolutamente e si vede. Non più in Italia, eh? Io direi che forse la domanda è un po' superfa se guardiamo semplicemente sia avanti e sia magari anche all'interno di queste meravigliose, meravigliose vetture, meravigliose locomotrici. Quindi Orlando comportati bene. Guardate l'effetto galleria dal macchinista, eh? Guardate la visibilità. Bastia! Praticamente nulla, ecco, noi si pensa sempre alle auto, loro non ce l'hanno bisogno, una gran visibilità, però vedete che quando c'è il buio pesto, loro vedono a 2-3 metri di distanza, eh? Questo per il fatto che ovviamente non dovrebbe esserci, non c'è mai stato un treno che viene in direzione apposta, però fa un certo lì. Allora, importante e interessante è vedere il raggio delle curve che per una ferrovia che noi chiamiamo normale è assolutamente impossibile, necessita un raggio molto più ampio per affrontare una curva. Come può essere possibile? Semplicemente, diciamo, semplicemente tra virgolette, avvicinando le due rotaie. E questo nostro sistema si chiama, tecnicamente, a scartamento ridotto. Lo scartamento, ferroviariamente parlando, è la distanza interna tra le due rotaie. E per fare un paragone, i treni intercity, Eurocity, le frecce rosse, eccetera, che tutti conosciamo, hanno uno scartamento, la distanza di un metro e 43. Noi abbiamo una distanza di esattamente di un metro, quindi quasi un terzo in meno e questo permette sia ai vagoni, alle carrozze più piccole, sia ai carrelli più vicini, sia proprio a questa dimensione più stretta, di affrontare queste curve che sembrano quasi stradali e in realtà sono ferroviarie. Orlando, la ferrovia menaggio porlezza era scartamento ridotto. Era? Era, eh, non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Per noi, in der Schweiz, la sprazione è un metro, come ha detto. In Italia, la sprazione è una sprazione di 95 cm. In Sicilien, per esempio, o anche in Eritrea, la sprazione di Italia, è una sprazione di 95 cm. Ecco, la traduzione italiana di quello che è un dettaglio tecnico che ci ha detto, Marcello, è che conferma che la nostra distanza tra le rotaie per lo scartamento ridotto è di un metro, ma in Italia, lui cita ad esempio ferrovie private che c'erano in Sicilia, la distanza era ancora più ridotta ed era di 95 cm. In Eritrea, che hanno praticamente agli Alborit, cioè anni e anni fa, avevano copiato o importato la cultura ferroviaria dell'Italia, anche lì i binari erano come quelli siciliani a 95 cm. Questo è un pezzetto di storia ferroviaria. Preferimento Eritrea e ferrovie italiane è puramente casuale, no? Siamo a 1600 metri di altezza. E meno male che comincia a vedersi una neve. Eh sì. Siamo a Cavaglia, dice Chicco. Poca neve, ma è un inizio, eh? È un inizio. Meglio. Diciamo con la montagna la arriviamo, eh? Eh, non troppo nei soli. Questa qui davanti a noi, guarda, questa è la prima che troviamo ancora pulita dalla neve. In alto c'è una curva. Sopra si vede che ho montato la gialla. Se la guarda in alto, probabilmente... Allora, dopo la prossima galleria facciamo un po' lentamente. Allora, come hai detto adesso, come hai detto adesso, va bene. Allora, dopo la prossima galleria facciamo un po' lentamente per vedere il ghiacciaio dal palù e il logo dal palù. Perfetto, ma grazie. Ah sì. Prego, prego. Perfetto italiano. Il fatto che siamo in alta quota e che tra un po' vedremo un ghiacciaio è anche testimoniato dalla vegetazione. In particolare la presenza diffusa dell'arice, che essendo l'unica conifera caducifoglia, vedete che non ha le foglie, è spoglio in questo momento. L'abete rosso e gli arbusti che si vedono affiorare qua e là, tra la neve, sono già rododendro ferrucino. Quindi vedete una tipica vegetazione alpina. Quindi le latifoglie cedono il posto alle conifere. Andiamo fermi perché siamo ad un incrocio. E eccolo qua che è passato. Quello dì è il ghiacciaio perenne. Bellissimo. Dell'Alpegroom. Del palù. 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 E questo... Il pizzo palù qual'è? Il pizzo palù è quello là. Quello là, alla destra. Ah, quello là appunto. Alla destra, sì. E sotto qui c'è il rago. Questo è un lago creato artificialmente, nel senso che hanno creato una semplice liga, che serve a fornire le nostre... Praticamente a dare la corrente, a creare la corrente, perché lì ci sono i vaccini idroelettrici, a creare la corrente che fa circolare praticamente ad impatto zero tutti i nostri treni. Se vi piacciono queste riprese, ringraziate Marcello che ha rallentato appositivamente per farci vedere tutto. Qualche piccolo intervento mafioso, tra virgolette, esiste? Eh sì, in Cina. Eh no, in Cina. In Svizzera. Mafia importata solo, naturalmente eh. Questa è la visione del ghiacciaio dopo la curva. Tra cinque secondi, sette, facciamo una delle curve più spettacolari di tutte le ferrovie svizzere, non solo della retica, siamo a duemila metri di altezza e in questo momento, ecco inizia la curva, ma noi vediamo l'antipiano di Cavaglia, vediamo Poschiavo, vediamo il lago di Poschiavo che abbiamo visto stamattina e dietro tutta la catena delle Alpi Orobiche, che sono quelle che vanno da, da... Lago di Como? Lago di Poschiavo. Ecco. Però là in fondo. Quello che abbiamo visto stamattina con il riflesso delle montagne. Siamo a guardare un lato. Grazie Marcello per la velocità. Eh, corrotto. Ah, ecco la festuta. Non ferma? No. Fermo, fermo. Ah, fermo. Qui avremo modo di filmare come quando ci fermiamo, eh? Spettacolare. Qui siamo sul lago bianco che d'inverno ovviamente ha una logica e bianco di neve, ma è denominato bianco perché d'estate il colore dell'acqua è molto chiaro in quanto non è un lago di sorgente, ma è un lago formato con lo scioglimento dell'acqua da ghiacciaio. Quindi assume questo colore verdastro grigio e denominato lago bianco. in seguito ci sarà anche il lago nero che è praticamente già in ingatina e quello sarà un lago più piccolo di origine da sorgente. Guardate il punto più alto di tutta la ferrovia retica. Allora, siamo a 2.253 metri di altezza e oltre ad essere... Allora, qui siamo nel punto più alto della ferrovia retica, auspizio Bernina, 2.253 metri. Un punto importante anche per altri motivi. È il confine linguistico tra la lingua italiana, che abbiamo lasciato alle spalle con la Val Poschiavo, e la lingua tedesca o anche il romancio, che è la quarta lingua nazionale svizzera, che inizia proprio in questo punto andando verso la valle dell'Engadina. Inoltre, qui siamo nello Spartiacque Nord Sud. Qui nasce a sud il fiume Poschiavino, che si riversa nell'Adda, che poi andrà a finire nel Po, e andrà nel Mediterraneo, come pure nasce il fiume Inn, che attraversa Innsbruck, Innsbruck è denominata così proprio grazie al fiume, va nel Danubio e poi va nel mare del Nord. Quindi un punto, diciamo, di estrema importanza sia ferroviaria, sia culturale e sia geografica. Allora, quello in mezzo, non ho schiuto, Pizcambrena è quello in mezzo alle due, quello lì piccolino. Pizcambrena si chiama. Qui, dovete credermi perché non si vede, ma questo è il Lago Nero, invece. È un lago spettacolare in questa stagione, però sotto c'è questo famoso lago da dove nasce Linn. È un lago di origine da sorgente. In inverno questo è il paradiso per gli appassionati di sport che io reputo già un po' estremi. In questo caso sono dei deltaplanisti. Siamo all'Alpe Lagalp e qui ritroviamo, possiamo dire, la civiltà, purtroppo, perché c'è la strada che collega St. Moritz. Ed eccola lì, la strada. Ecco, in mezzo alle montagne, quelle più dietro, dove si vede un po' di neve polverosa che va in aria, perché c'è un po' di vento. Quello a destra dei due è il Piz Palu, perché questo è uno dei più conosciuti a livello di Alpi e Ingadinetti, no? Per andare su in cima. Il treno ferma 20 metri dall'impianto di risalita. Te scendi con gli sci, tu le scusi ha, e sai quanto costa? Un franco in più dello si passa. Tirano fino a qua e risposta. Il treno ferma 20 metri dall'impianto di risposta. Guardalo fermato, non sarebbe questa richiesta. Ma Chico, quando c'è giù neve, quindi arriverà giù anche un metro per volta, no? Il trenino me lo fa. Anche di più. La neve non è un nemico, ma è un'alleata per il nostro treno, perché dà tono, dà anche questa spettacolarità che abbiamo visto fino a poco fa. In realtà tutti i locomotori nostri sono muniti di spazzaneve. Quello è già inserito davanti, quindi per piccole quantità non c'è nessun problema. Ma se di notte, quando i nostri treni non circolano, dovesse nevicare un metro, già successo, anche un metro e mezzo, il primo treno della mattina non sarà un treno normale, ma sarà un enorme spazzaneve di cui noi disponiamo, ha davanti una grande, io lo chiamo una ruota enorme, gigantesca, che spazza la neve ai lati, formando dei muraglioni che poi rimangono spettacolari, così il treno ha la strada pulita e può ripartire senza nessun problema. Mai un treno non ha potuto circolare a causa della neve. Chiaro, se ci fosse una piccola slavina, valanga eccetera, per forza, ma solo perché è caduta neve non ci siamo mai fermati. Vedete che in mezzo ai binari ci sono delle tracce di passaggio umano. Questo in realtà non è un burlone che vuole fare l'eroe camminare in mezzo, ma è il guardia tratta. Questo vuol dire che ogni giorno c'è una persona che controlla la tratta, che tutto sia in ordine, che non ci siano ostacoli per i treni, eccetera, eccetera, e ci sono determinate tratte che vengono controllate giornalmente. Non tutte, ovviamente, ma oggi ha fatto questo, domani ne farà un'altra. Così è un ulteriore sistema di garanzia per la nostra sicurezza. Ah, quello lì è il Morterac, è il Piz Morterac, quello là in fondo, eh. Poi vi faccio vedere finalmente il famoso Piz Termina, dopo, eh. Un attimo riposizio. Un attimo riposizio. Vediamo il ghiacciaio del Morterac. Lo vediamo, perché lo vediamo ancora meglio, eh. Ora siamo in un paradiso, stiamo vedendo il ghiacciaio più grande di tutto il Canton Grigioni, il ghiacciaio del Morterac. Tra un attimo faremo una curva spettacolare dove lo avremo pulito, lo vedremo netto. E quelle che vedete in alto a sinistra, leggermente a sinistra, quello centrale è il Piz Bernina. È l'unica prospettiva da cui si può vedere. Quindi a sinistra del ghiacciaio, però in mezzo, dove c'è una piccola nuvoletta sopra in questo momento, quello è il Piz Bernina. A sinistra, a sinistra Orlando. Guarda dove c'è quel sentiero. Ecco, quel sentiero segnalato da quella scultura che abbiamo appena visto è il sentiero che porta al ghiacciaio del Morterac. Perché dico questo? Perché dove c'è quella scultura è dove arrivava il ghiacciaio circa 150 anni fa. Pensiamo che ora, per arrivare a toccarlo, si impiega circa un'ora di cammino. E questa è una notizia abbastanza drammatica perché significa che il ghiacciaio si è ritirato addirittura di un'ora a piedi rispetto all'anno. Un giardino stupendo. Dubbi sulla nostra efficienza a livello di orario? Questa è la nostra destinazione, Ponte Resina. Dovremmo arrivare alle 11.50. Ora sono le 11.44 e 40 secondi. Io sono disposto a scommettere che quando ci fermeremo Ponte Resina, le immagini lo testimonieranno. Noi saremo alle 11.50 o eventualmente qualche secondo prima. Ho lanciato la sfida, eh? Eh signor! Questo orologio digitale, sembra incredibile, è collegato a tutti gli orologi delle ferrovie svizzere. Se noi guardiamo adesso a Zurigo, a Basilea, a San Moritz, a Mendriso dove abito io, l'orario è esattamente uguale al secondo. Sembra incredibile, ma mi dovete credere. E' inutile Orlando che provi a fregarli. E' inutile. E' inutile. A Teglio, in Svizzera è cominciato ad essere un po' dei rompiballe per ora. Contentiamo il rompiballe in Svizzera perché? Dica che siamo arrivati con tre minuti di anticipo. Qui la testimonianza sono solo due perché ci abbiamo impiegato un attimo a scendere. Orario di arrivo 11.50, sono le 11.48 e noi siamo qui in perfetto orario svizzero. Grazie mille. Le collaboratrici non si baciano eh? Si 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 baciano. Si baciano? Da noi si. Come ti chiami? Natalie Bonotto. Natalie? Si. Si baciano da noi. Mi hai rovinato la ripresa, guarda. Noi siamo colleghi e i colleghi si vogliono venire. Una bella tusa, una bella tusa, siamo a Pontresina. Passezzatina a cavallo. Cavallo che ha conservato il pigiama. ecco qui siamo di fronte alla stazione di Ponte Resina a 20 metri dalla stazione e queste sono le carrozze trainate da cavalli quando nevica forte ci sono le slitte che portano fino alla Val Roseg la Val Roseg è un paradiso una valle incontaminata non c'è assolutamente nulla a parte una struttura di ristorazione in fondo al percorso sono 7 chilometri di spettacolo puro e con i cavalli si impiega un'ora esatta una gita da assolutamente provare una volta nella vita perché qui veramente siamo in un paesaggio fiabilico riprendiamo il trenino non il nostro che abbiamo lasciato ma ne riprendiamo sempre un altro sulla stessa linea e ritorniamo all'Alpecrum dove ci aspetta la fondue la classe presumo più o meno a Spagna sui 70 da territorio perché Antiglio sta bevendo qualcosa e incuriosito anche Chico vuole bere ma Antiglio rifiuta di dargliela perché dice no sai ho già bevuto io dentro qui non va bene e il ma Chico dice ma va cosa vuoi che sia dai siamo tutti e beh ma sai dice Antiglio è pericoloso perché io ho l'AIDS e Chico non sa cos'è l'AIDS se l'è l'AIDS e beh sai l'AIDS è una malattia con la quale puoi muore e io c'ho la mutua e vabbè ma sai morire perché sì con l'AIDS si muore perché con la mutua si campa la funivia del diavolezza mi sentono gli scenatori mi mandano un po' di popoli là sì sì bello però dai ed ecco il diavolezza perfetto va che bello sì bello è piccolo ma già che storia che bello qua adesso le altre scelte le belle cioè anzi questo punto che bello scelte le prime vediamo 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 siamo arrivati all'Alpegrum si dice che il trenino della fortuna passa una volta per tutti nella vita e chi è capace di acchiapparlo è fortunato ma tra poco vi dimostreremo che non è sempre vero quello che si dice vediamo che queste riprese vengano perché qui con la luce che batte dentro non si vede niente sai come si chiama la luce che si riflette grazie grazie amico come stai mani un'animo saluta attimiendo lui non è bicchiere la conclusione del nostro viaggio di arrivo un bel brindisi diciamo come Orlando sa fare e viva il trenino del Bernina grazie grazie ognuno prende un pugno di pane già tagliato se lo prende nel suo piatto non prendere il pane da lima lo mettiamo qui nel piatto poi pane e per il bene di tutti si deve girare per far sì che la fondue non attacchi sul fondo del padellino quando l'hai intinto un po' il pane lo giri te lo porti nel piatto lo giri e lo soffi finché ritieni che non sia più almeno gustionante e a questo punto si gusta si ma Reco fa no sbisca facciamo la vera cosa svizzera il Kirsch tu te ne la sa allora ecco lo ordino ecco e poi subito dopo sarei pronto a filmare quello che è una specialità tipicamente svizzera e anche che aiuta la digestione e tirare l'acqua insomma che aiuta la digestione tirare l'acqua a mio musico l'abbiamo colpito nell'orgoglio ed eccovi la vera versione della fondue caro amico Orlando finora abbiamo scherzato ora passiamo alle cose serie parla un po' più ora passiamo alle cose serie caro Orlando perché finora abbiamo scherzato chi mangia la fondue sul serio chi ha il carattere chi ama la fondue intinge il pane nel Kirsch questa non è acqua questo è distillato di ciliegia ogni 5 6 7 volte uno intinto nel Kirsch poi nel formaggio stesso procedimento gustare e a questo punto siamo in paradiso meno male e dopo questo breve intervallo a base di fondue di formaggio illustrato dall'amico Kikko in tutti i modi con l'aperitivo ecco la mia convinzione che non sempre quando il trenino della fortuna se ne va è una fregatura molte volte si finisce anche bene e dopo questa bella mi auguro bella panoramica finale sul tramonto delle nostre montagne ubriachi sbronzi pieni uccisi dalla fondue di formaggio Orlando Kikko e Atilio vi augurano che cosa vi augurano non vi augurano niente peggio per voi che non c'eravate qui è un orario che mi ha stantissimo lago di poschiamo al tramonto guarda che bello riflesso la montagna bianca qui dove c'è il sole chiaramente ci vuole il sole guarda che bello ma che quadro sul lago guardate sopra di me io ho terminato la mia responsabilità termina qui orario previsto ore 17 siamo scesi ora e che Dio ci assista nel proseguio del nostro viaggio grazie a tutti adesso parlo io e dico che entriamo nell'incognito delle ferrovie italiane e vediamo cosa succede ora ora chi lo sa grazie si e contrariamente a quanto previsto caro chicco vedi che anche le ferrovie italiane funzionano infatti uno soppresso stamattina uno in orario la media siamo in media siamo efficienti va bene ecco te vedi tutto normale ma che ne vorrà partire almeno però è ancora fermo speriamo che parta non si sa questo boh grazie a tutti grazie a tutti